Ciao creatura, io sono Ecate Splendente, benvenuta o bentornata nel regno di Guzai e SMA. In questo video andrò a salutare tante delle mie creature che mi seguono su Instagram, se vuoi essere anche tu salutata in un video ASMR, in uno dei miei video ASMR, allora devi soltanto, solamente seguirmi su Instagram. Mi trovi col nome Ecate Splendente e ogni tanto io in modo molto random, in modo molto a caso, posterò una foto con la descrizione. Per chi vuole essere salutato, commenti qui, ecco, è molto semplice, quindi basta che mi segui su Instagram e ogni tanto avrai la possibilità di essere salutata o salutato in un mio video. Bene, detto questo, direi che possiamo iniziare con i saluti. Farò anche qualche suono rilassante, perché mi piaceva l'idea di abbinare saluti e suoni. Anche se lo so, lo so la creatura che tu adori la mia voce, piccolo consiglio, mi sono fatta un po', un po', un po' di blush, perché allo specchio del bagno sembrava un po', ma adesso mi guardo nella videocamera e sembra che abbia avuto mille litri di vino. Dimmi tu, e ah sì, ovviamente non avendo il blush, ho usato come fanno vedere in certi tutorial, un rossetto, quindi a me piaceva allo specchio, ma in realtà piace anche qui alla videocamera, ma non lo so, mi sembra forse too much. Però, siccome mi sono vista allo specchio, con il trucco che faccio di solito, ho detto, ma sembro molto cadaverica, molto più del solito. Il look di solito mi piace, ma stamattina non lo so, dato che mi vedo ogni giorno con la faccia cadaverica, perché senza trucco sono effettivamente uno zombie vivente. Ma lo zombie è un essere, cioè, vabbè, hai capito? Uno zombie, punto. Se ho detto, cavolo, se mi trucco e sono uguale a prima, non è che mi piace tanto l'effetto, quindi mi sono stato colorito un po' più vitale, ecco, diciamo così. Fammelo sapere nei commenti perché ci tengo. Se mi dici, mi dici creatura, no, guarda, evita sempre un clown, allora dico, ok, mai più. Se invece mi dici, no, ti dà un colorito un po' più vitale, ok, allora dico, good job, good job, ecco, good job. Ok, allora andiamo su Instagram e sul mio profilo, ecate splendente, ho messo un'immagine che ho creato io, ovviamente, non sento talmente, non so se mi piace un sacco. Ho ricevuto ben 30 commenti, c'è scritto 31, ma so che uno è mio, perché ho risposto a una persona, o forse se questa persona non mi ha risposto, quindi non lo sapremo mai. Grande, vabbè, era inerente al saluto, però vabbè, fa niente, la saluterò come mi ispira. Un call center mi sta chiamando, buttiamoci la chiamata e blocchiamo il numero, non so voi, ma in questo periodo i call center mi stanno chiamando, mi stanno bombardando letteralmente una trentina di chiamate al giorno, ma io rispondo, ma poi non mi risponde indietro nessuno, c'è di pronto? Il voto cosmico non mi risponde nessuno, vabbè, questo è un video saluti, basta chiacchierare di altro, era da tanto che non facevo un video, mi mancate tantissimo. Allora, andiamo a bloccare questo call center, li blocco tutti, sono spietata, aggiungi la lista nera, e io non metto mai like, perché di solito li metto quando faccio il video così segno che io ho già letto, sono un piccolo genio, lo so. Allora, sto scherzando, è ironia ovviamente, no? Allora, ciao ecco a te saluteresti Edo e Sara, ti seguiamo sempre. Ciao Edo, 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 ciao Edo e Sara, 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 E le unchie è un casino, una ce la devo fare, una mi si già rotta, se avete qualche consiglio scrivetelo, ho letto tipo olio d'oliva e limone, brucia, comunque off topic, lo ricrea, l'ho 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 ricrea, l Mi fa sempre tanto piacere se mi saluti, sei fantastica, un abbraccio, Marta Giari, Marta Giari, Marta Giari, Marta Giari, Marta Giari, Marta Giari, ciao Marta, ho un sacco di creature, mi fa strano, un sacco di creature che si chiamano Marta e io, wow, non ne ho mai conosciute così tante è scritto F R I N C M E e non ho scritto niente, ho messo solo tre smile, che sono gli smile quelli carini, non quelli psycho, perché esistono anche gli smile psycho che vi racconterò oggi, o forse, o forse anche no, chi può dirlo, stella.micheluzzi che io ti vedo spesso commentare, quindi mi ricordo di una stella.micheluzzi, stella.micheluzzi, che ha messo un coltino verde e una palla, quella, quella, la sfera magica per vedere il futuro, stella.micheluzzi, stella.micheluzzi. Poi c'è la nostra collega, la mia collega, dopo sicuramente dico nostra, perché qualche creatura del regno di cosa è anche un artista ASMR, quindi è nostra, è five stars e ASMR, bellissima foto e mi farebbe tanto piacere se salutassi anche me, ecco di qua, cuorezzino, viola e fiamma e luccichio, io chiamo luccichio, perché non sono stelline, cioè sì, sono tipo stelline, ma tipo un luccichio, vabbè, perché mi piace la parola luccichio, 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 no vabbè, sto make-up mi piace, ragazzi, sono molto cute, stupida. Dopo parliamo del mio make-up, andiamo intanto in saluti, allora, ciao, five stars, ASMR, five stars. Allora, so c'è tutto a fare che non ha specificato, come sempre il mio nome pronunciato da te è magia per le mie orecchie, smile quello carino e curizzino verde. Allora, io ho chiesto il nome vero o il nickname e non ho ricevuto risposta, quindi andrò di nickname, quando non specificate io prendo il nickname perché quello è scritto pubblico, quindi so c'è tutto a fare, so c'è tutto a fare, so c'è tutto a fare, verde luna, bellissimo nickname, che ha scritto, cuorizzino verde e non capisco, è tipo una medaglia o un doblone d'oro, qualcosa dorato, perché non è giallo, è dorato secondo me, però non ne sono certa, una palla dorata, non lo so, sono confusa al riguardo, sono facendo dei rumori strani fuori, portiamo pazienza, quindi ciao, verde luna, verde luna, verde luna, puoi c'è chioda, besanischi, detto giusto, chioda, 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 chioda. Mi piace come suono ma che bella, ho che cuorezzino, angel war art ciao ecco a te mi piacerebbe tanto un tuo salute un piccolizzino rosso bacione angel war art ciao 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 angel war art te l'ho letta proprio in inglese, americano figo sto affinando la mia pronuncia non è vero poi c'è nottola93 che mi commenta spesso mi risponde alle storie quindi mi ricordo di te tantissimo è Marta cutizzino nero bellissima ed è nottola poi mi fa ridere nel senso buono mi fa tenerezza perché questa parola vabbè non posso raccontare gli affari miei comunque una certa persona molto blackster diciamo molto brutale una sera mi aveva salutato con nottola e io ero rimasto così non sta succedendo davvero quindi mi ha fatto troppo tenerezza e adesso quando leggo nottola che era per dire buonanotte mi ha detto nottola così rando con una licenza poetica molto kawaii che non mi aspettavo e quindi adesso con tenerezza leggo sempre il tuo nickname ne avrei di cose da raccontarvi ma non posso dire creatore potrei farvi veramente il libro della vita però lasciamo perdere allora poi siamo qui non ho messo i curizzini raga mi sono dimenticato devo segnarmi che ho già detto sennò dopo mi perdo ok abbiamo fede fede fegu 82 che ho messo 4 curizzini verdi raga cioè creatura ciao fede io ti chiamo fede perché ho appena detto che se non scrivete il nome non dico il nome ma fede si può dire fede cioè robo shark robo shark lui lo sa lo sa frappo che chiede una cosa che non si può avere e quindi niente frappo mi dispiace per te tanto se la vuoi posso mandartela in privato vuole un mio da sam però nei video smr non è smr disturbere per troppo e quindi te la manderò su un messaggio in privato o sulle storie di instagram piuttosto rosy sun mi piacerebbe molto essere salutata con il tuo whispering eccomi qua ciao rosy sun rosy sun rosy sun rosy sun adesso fa tomaso pane bianco tomaso pane bianco pane bianco pane bianco pane bianco tomaso tomaso ciao tomaso pane bianco anche il nostro il nostro collega è il nostro collega caro amico spiderman di guardiare che è spidey ASMR ma andate a vedere il suo canale bellissimo allora ciao ecco a te corezzino rosso volentieri salutami come ah io ho appena nominato nome del canale ma non è forte salutami come peter giustamente peter lui peter parker ma è quello c'è lo spider man originale quindi attenzione ciao peter 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 ele pisciotta ciao ecate visto che ci dai questa possibilità mi farebbe molto piacere essere salutata grazie di tutto doro i tuoi video fazzina col curizzini ciao adoro il non so se si sentono il hear to hear tipo poi abbiamo amp no amp vide non so però per fortuna ho messo dei nomi quindi non devo più non nominarlo questo nickname ciao ecate corizzino verde mi saluteresti? sono angela ma puoi salutarmi come eccola come si pronuncia plengel 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 spero di averlo detto giusto ciao plengel anche se angela è molto più bello cioè in italiano così poi è mi temporale saluteresti harimi è la mia gatta questo è un saluto molto particolare mi piace è molto creativo qual è saluto alla gatta ciao harimi mi piace mi piace mi piace come quando si chiamano i gattini no? ciao rimi ciao mi potresti salutare this is Ricky ciao Ricky this is Rick amica mia amica mia ma è stupendo questa foto mi ha scritto TheBookMark87 facciamo un altro placement un po' di spam andate a seguire su Instagram TheBookMark87 recensione di libri è un mio amico quindi ovvio anche lo spam cioè ovvio poi calorina mio calorina mio calorina mio mi ricordo un video in cui leggevi i commenti fatti sotto ad una foto e quando hai letto il mio nickname ho avuto un sacco di tingles due cuorezzini rossi ah però allora calorina mio calorina mio calorina mio calorina mio eccoci tutti questi tingles speriamo che mi metteremmeno un like sotto al video ecco Cold Mary non importa il saluto in sé ma io ti do un abbraccio virtuale taglie tutta col cuorezzino verde e anche un bacino così grazie Cold Mary per il tuo sostegno morale io ne sono sempre molto felice di riceverlo il sostegno morale mi dà un sacco di forza e quindi grazie mille Cold Mary ciao Cold Mary Cold Mary Cold Mary Cold Mary poi abbiamo Gustix 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 che mi mette un bel cuorezzino verde e un cuorezzino nero poi I'm Alexa però così Alexa perché c'è un H finale quindi le H che vanno nominate pronunciate ciao Ecco a te mi piacerebbe essere salutato se vuoi comunque adoro i tuoi video due cuorizzini rossi pieni di amore grazie mille I'm Alexa 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 Timo Timo ma perché cosa ti ho fatto ma non you you ah you allora ok ciao ecco che saluta a me il gruppo di cicino 2.0 che ti segue sembra un po' un troll ma non importa perché anche questo mi ha fatto mettere una storia però te la lasciamo vabbè la dico allora praticamente Nisi Time aveva fatto salutare me da Zed89 in una live mi pare se no si facendo tipo una donazione di un euro due euro così tanto per farsi leggere aveva scritto ciao e tipo saluti la mia amica e che è splendente e lui non ha voluto leggere il mio nome perché pensava fosse una cosa strana tipo pensava fosse un troll qualcosa del genere qualcosa che non si può pronunciare e quindi non l'ha letto e lei aveva fatto tipo aveva registrato questa cosa e io ero tipo ma perché non mi pronuncia non sono una parolaccia già capito già era rimasta tipo male ma nel senso simpatico della loggia che mi faceva ridere la cosa ecco è stato molto buffo però mi ha dispiaciuto perché non mi ha nominato però va bene chi se ne vogliono dire no però ecco è questo qui quindi io quando leggo qua però ti leggo lo stesso anche a costo di fare la figura del lori e avete capito chi vi qualcosa la leggerò perché io so come ci si sente quando non ti nominano che non hai fatto niente di male non sei neanche una parolaccia e non ti nominano non è giusto quindi ecco Marchedella mi saluti ecco a te sei la migliore grazie colizzino rozzo due colizzini rossi bisogna dire qualche come stanno ciao Marchedella Anna Nina Prox grazie non lo chiedo mai ma ora che lo proponi tu mi farebbe molto piacere essere salutata e ha messo allora c'è una facina con due colizzini gli occhi colizzino ma dopo c'è un emoji che io non riesco a vedere ed è tipo un rettangolo in piedi con una X in mezzo non so cosa sia probabilmente il mio telefono non lo regge però ti ringrazio lo stesso Anna Nina Prox Anna Nina Prox Anna Nina Prox Anna Nina Prox anche Marchedella 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 e anche il gruppo Gigi 1.0 ciao ciao a tutti l'ultimo è che in realtà è stata la prima a commentare quella più ciao io sto nella prima no mi piace sta cosa io adoro tipo quando si arrabbiano le persone quando scrivono primo primo che si arrabbiano a me piacciono invece quei che scrivono primo primo perché sono tipo speciali no io li adoro cioè sono non lo so mi fa ridere è simpatica la cosa non lo farei mai però mi piace chi lo fa perché sono tutte mi piacciono un po' tutte le personalità quelle particolari stravaganti chiara canzi bellissima idea occhi curizzino e cimietta che si copre gli occhi un po' timida un po' timida e la ragazza anche se parte perché parte per prima dice vado ma sono un po' timida però vado quindi ho avuto il coraggio e quindi di apprezzare chiara canzi ciao 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 chiara con la k chiara 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 canzi 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 chiara 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 spero che questo video ti abbia fatto rilassare ti abbia fatto sorridere ti abbia tenuto compagnia non so intrattenuto in qualche maniera tanto sai che i miei video sono sempre così non facciamo cambiamo suono facciamo un po' di topic ma cosa giro così non si vede il brand non ho più le unghie finte però un po' di tapping riesco a farlo anch'io e e niente ah lo sai benissimo che attora che i miei video non sono professionali e sono sempre molto ironici simpatici perché siamo io e te diciamole così come stanno tra amici insomma è così è proprio come se tu fossi qua e fossimo ci conoscessimo da sempre e certo ci mettono la qualità ma è comunque molto più casereggio che una cosa fredda di di staccata tu lo sai e per quello che sei qui perché ti piacciono così i video di nicchia di nicchia sono video di nicchia perché so che come la musica è scorsa di nicchia è meglio che commerciare effettivamente sì adoro e sì io mi reputo mi reputo un canale di nicchia perché so che non piace a tutti ma è anche quello che lo rende speciale quindi non so come sono finita in questo discorso comunque io volevo solo augurarti buonanotte buon relax ciao creatora ciao